Marco Belelli che fai? Ti candiderai? Abbiamo ricevuto molti inviti in tale senso da radicare di tutta Italia. Stiamo riflettendo, come sta riflettendo ci dicono la risolta di cui tutti parlano, valuteremo naturalmente come la risolta sta facendo, presumiamo, quindi congiuntamente poi valuteremo, scandalieremo, approfondiremo. È evidente comunque che se si tratta di fronteggiare la candidatura della risolta, poiché dietro la risolta c'è il sommo padre, l'ascensione è pressoché scontata. Vedremo, vedremo. Grazie